I nostri timori nascono appunto dalla firma dei patti territoriali e dalla chiusura del punto nascita. Da lì abbiamo deciso di costituirci giuridicamente il primo luglio scorso, perché il mese di giugno non ha sancito solo la chiusura del punto nascita, ma è stato approvato anche un secondo documento, il piano di Aravasta, che prevede una chiusura sperimentale e parziale dell'urgenza chirurgica. Il Comitato Salute Casentinese a mesi di distanza dalla sua Costituzione prosegue nella propria battaglia. Dopo la lunga campagna informativa che ha toccato tutti i comuni del Casentino e la raccolta firme, il 12 novembre la petizione per richiedere il ripristino nell'emergenza chirurgica e il mantenimento del distretto sanitario sarà consegnata al Presidente della Conferenza dei Sindaci del Casentino, Daniele Bernardini. Sabato mattina 12 novembre alle ore 9 e mezzo di fronte all'ospedale ci sarà un corteo che passerà di fronte al Comune di Bibbiena per arrivare in Piazza Tarlati. Da lì sarà una manifestazione del tutto a politica dove parteciperanno Comitati Salute da tutta Italia. Abbiamo invitato il Presidente dell'Associazione Antimafia Falcone Borsellino, avrà il Forum Molisano che raccoglie tutti i comitati del Molise, verranno dalle Marche, dalla Calabria. Non mancherà il nostro ex dirigente Asli, Dottor Ricci, coordinatore del referendum sanitario. Fede il Consumatori che è un partner che ci ha fortemente sostenuto. Noi quello di cui abbiamo bisogno, essendo l'unica vallata delle quattro della provincia di Arezzo, siamo l'unica che non ha una viabilità. Dalle zone periferiche del Casentino, Badia, Prataglia, Montemignaio, Laverna, si arriva a essere oltre 50 chilometri da Arezzo. Noi su alcuni casi importanti di gravità per la nostra vita non ci arriviamo a Arezzo. Data la viabilità, noi non ce la facciamo. Quindi non possiamo che chiedere con forza che venga ripristinato e che non venga chiusa la chirurgia d'urgia.